E tutti avevano bisogno della banca. Quei soldi non ci sarebbero mai stati! È stata mia l'idea di farlo diventare un film e riscrivendolo con Romolo Bugaro, che è l'autore della pièce e quindi anche del soggetto, abbiamo anche cambiato gli esiti e anche degli elementi centrali della storia. E io l'ho sposato perché era, a mio parere, un modo di raccontare è appunto un dramma che è stato enorme, quello del crack. Non solo delle banche venete popolari, ma di molte altre banche che hanno poi prodotto gli stessi terribili effetti. Il mio personaggio è un medico che non è direttamente coinvolto, cerca di stare a galla come tutti gli altri, però in particolare in questa notte in cui si consuma questo rito di cucitura tra il potere, tra i vari personaggi che hanno subito questa tragedia, che poi è una tragedia economica, ma anche personale, familiare. Lui ha questo motore suo interiore che è la preoccupazione nei confronti di una bambina che è stata ricoverata proprio nel suo pronto soccorso il pomeriggio del giorno stesso. Il profitto come unica stella è l'assoluta non curanza degli esiti di questo modo di comportarsi per la comunità alla quale si appartiene. Stiamo parlando di una banca popolare, quindi di una banca locale che, come raccontano i cartelli iniziali, dovrebbe basare la propria forza sulla fiducia dei clienti. Tutta la vita è incentrata sull'idea della ricchezza e questo medico come prima cosa mette davanti a tutto la parte umana, la parte sensibile, la parte anche della cura verso le altre persone che magari hanno anche bisogno. In questo caso questa bambina è stata addirittura vittima di violenze domestiche e quindi questo porta nel film una vicenda così cruda e così reale che in qualche modo smuove anche, mi immagino e spero, insomma, nello spettatore un punto di vista che nel film non c'è. I clientes circostanti, che sono quelli protagonisti poi della prima parte del film, sono assolutamente vittime di se stessi perché sono invischiati ma soprattutto sono vittime del fatto che non si prendono nessuna responsabilità. Questo è un film che cerca comunque di raccontare i cattivi ma da un punto di vista della mancata presa di responsabilità che porta a comportamenti come quelli che vengono raccontati nel film. I cacchi, i farabunti e i ladri!